Fu rappresentata dagli antichi. L'acidia o pigrizia fu rappresentata dagli antichi come una divinità figlia del sonno e della notte. Emblemi dell'acidia furono inoltre la lumaca e la testuggine. Qualche pittore ha rappresentato la pigrizia come un uomo con le braccia conserte seduto su di un asino. Perché? Commento. Perché considerare la pigrizia come un'esperienza negativa fa parte di ciò che crede la media evoluzione. La pigrizia invece è uno stato dell'essere che lavora allo scopo di ognuno che è quello di evolvere. E come? Preparando l'individuo ad una esplosione di attività che avviene rare volte nella vita che si considera e sempre in una vita futura. E come? Preparando l'individuo ad una esplosione di attività che avviene rare volte nella vita che si considera e sempre in un'esperienza. Grazie. Grazie. Grazie.